Sono emersi dalle nostre indagini tutta una serie di rapporti tra esponenti politici e organizzazioni mafiose che nella requisitoria del maxiprocesso vennero chiamati contiguità. Poi vedo anche che cosa è l'attività di questi giudici. Da cittadino mi domanda ma quanti soldi pubblici stanno sprecando in processi come quello di Andreotti, in processi come quello per Dell'Utri e come si possa continuare in uno stato di diritto a portare innanzi ancora la figura del concorso esterno dell'associazione mafiosa, un reato che non trova sede nei nostri codici. Delle situazioni di vicinanza o di comunanza di interessi che però non rendevano automaticamente il politico responsabile del diritto di associazione mafiosa. Bene, voi pensate che l'accusa che si fa a Marcello è praticamente di aver avuto rarissime frequentazioni con chi è pensato, non so se poi condannato già, e quindi certificato mafioso. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. Non è che si dice lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato. No, non c'è una pena, li ha solo frequentati. Questo non ci ha consentito dal punto di vista giudiziario di formulare imputazioni su politici, però stiamo attenti. Vi è un accettamento rigoroso di carattere giudiziario che si esterne nella sentenza, nel provvedimento del giudice e poi successivamente nella condanna, che non risolve tutta la realtà, la complessa realtà sociale. Vi sono oggi ai giudizi del giudice, esistono anche i giudizi politici, cioè le conseguenze che da certi fatti accettate trae o dovrebbe trarre il mondo politico. Ci sono rarissime frequentazioni con chi è pensato, non so se poi condannato già, e quindi certificato mafioso. Di pentiti l'hanno, come dire, accusata di un fatto piuttosto grave, lo stampo mafioso, l'associazione eccetera. Lei chi è? Dottor Gekili o Mister Haide? Io credo che intanto tutti siamo un po' l'uno e l'altro, ma nel mio caso certamente non c'è l'uomo, come dicono, appartenente o vicino alla mafia e l'uomo vicino invece alla vita normale, perché questo non sarebbe possibile. Ecco, ma lei... È impossibile strutturalmente che uno possa fare l'uno e l'altro. Chi mi conosce ovviamente lo sa bene, chi non mi conosce può anche avere qualche dubbio. Ecco, ma lei la mafia l'ha vista solo al cinema, come capita la maggior parte di noi, oppure anche negli occhi? Certo che l'ho vista al cinema. Solo al cinema? Sì, sì, l'ho anche letta sui libri. Ecco, e come se l'immagina? Come rimane? Ma non esiste la mafia. C'è un posto dove lei va a bussare e dice permette, e qui c'è la mafia, chi è il direttore generale? Non esiste. Ha emesso la seguente sentenza. Visto l'articolo 530, comma secondo, codice di procedura penale, assolve Andreotti Giulio dalle imputazioni ascrittegli perché il fatto non esiste. Vai, così è stupendo comunque per noi, guardate. Presidente, senza rinvio, senza rinvio, abbiamo finito per sempre, senza rinvio, senza rinvio, senza rinvio, è chiusa la vicenda. Però attenzione, perché le cose non sono così semplici. Nella sentenza ci sono alcune importanti precisazioni. Fino alla primavera del 1980, alcune di quelle cose, Giulio Andreotti, le ha commesse, solo che sono cadute in prescrizione. Quindi fino all'80, reato commesso, una prova dopo l'altra, concretamente configurabile a carico dell'imputato, questa non è una soluzione. E poi bisogna aggiungere anche... Che fino al 1980 ha tenuto relazioni amichevole e dirette con esponenti maficiossi di spicco. Come dice la sentenza. Questo no, 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 non lo dice per dietro la sentenza. Voglio dire, ma... No, no, guardi, questa non è vera assolutamente. Si deve rileggere perché non si è rilegta. Su quella parte non posso andare a guardare perché era prescritto i termini per poter andare... È caduta in prescrizione? Io la faccio vedere. Nel periodo antecedente al 1980 la sussistenza di relazioni amichevole e dirette di Andreotti con esponenti mafiosi di spicco. Avere ascoltato ieri il tribunale che un dispositivo dice che non ho mai favorito l'organizzazione mafiosa e neanche il singolo mafioso, nonostante la condanna per cinque anni, un po' di conforto me lo ha portato. Se ci fosse stato un reato di mafia, beh, avere ritenuto di lasciar perdere perché era un reato infamante, ma una violazione in segreto d'ufficio e un favoreggiamento semplice mi portano a dire che posso continuare a lavorare a dimostrare che neanche quello ho fatto. Ora l'equivoco su cui spesso si gioca è questo. Si dice che quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con l'organizzazione mafiosa, però la magistratura non l'ha condannato e quindi quel politico è un uomo onesto. E no, questo discorso non va perché la magistratura può fare soltanto un accettamento di carattere giudiziale. vuol dire, beh, ci sono sospetti, ci sono sospetti anche grave, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria, che mi consente di dire che quest'uomo è mafioso. Però, siccome queste allendazioni sono emersi, tanti fatti del genere, alciordini, alcipoteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali, per quello che sia, dove erano già le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della procedura. Questi giudizi non sono centrati perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza. Si è detto, ah, questo giudizio non è stato mai condannato quindi è un uomo onesto. Ma, dimmi un poco, ma tu non ne conosci gente che è disonesta ma non è stata mai condannata perché non ci sono le prove per condannarlo. Però c'è il grosso sospetto che dovrebbe, quantomeno, indurre, soprattutto, i partiti politici a fare grossa pulizia a non soltanto essere onesti ma a parire onesti facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da esodi o da fatti inquietanti anche se non conoscevano i reati. La figura del concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che non trova sede nei nostri codici. Da parte di quello che succede a me, ma il popolo che ha detto è un concorso esterno, non è grafico, concorso esterno. Le vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano il reato ma erano o che rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della propria. Non so se poi condannato già e quindi certificato mafioso. Si dice quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti e una organizzazione mafiosa però la magistratura non l'ha condannato quindi quel politico è un uomo onesto e no. Questo discorso non va. C'è un posto dove lei va a bussare e dice che ammette e qui c'è la mafia che è il direttore generale non esiste. Nonostante la condanna per cinque anni un po' di conforto me lo ha portato. Certificato mafioso. Ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza. Mi sono stati finiti tutti. Buongiorno e sono qui appunto per continuare quelle cerazioni che avevo già iniziato una justizia uguale per tutti i cittadini e questo cittadino ha un corso un po' più uguale del reale visto che il 50% degli italiani che ha conferito la responsabilità di governare il paese e questo cittadino che ha conferito